In Calabria ad oggi sono stati effettuati 33.950 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.108 più 6 rispetto a ieri, quelle negative 32.842. Territorialmente i casi positivi sono distribuiti 47 a Catanzaro in reparto, 2 in rianimazione, 68 in isolamento domiciliare, 67 i guariti, 31 i deceduti. A Cosenza 25 in reparto, 1 in rianimazione, 308 in isolamento domiciliare, 91 i guariti, 28 i deceduti. A Reggio Calabria 24 sono in reparto, 3 in rianimazione, 139 in isolamento domiciliare, 70 guariti e 16 deceduti. A Crotone 9 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 40 guariti, 6 deceduti. A Vibo invece 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti, 5 deceduti, nessuno in reparto. In totale dei casi di Catanzaro comprende anche quelli provenienti dalle strutture e delle province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro è di Taranto, mentre si precisa, così come arriva dal bollettino della Regione che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. E poi ancora i soggetti in quarantena volontaria sono in tutto 6.675 distribuiti, 1.504 a Cosenza, 1.680 a Crotone, 1.884 a Catanzaro, 267 a Vibo Valencia e 1.340 a Reggio Calabria. Le persone giunte in Calabria ad oggi che si sono registrate nel portale della Regione sono 16.837. Nel conteggio sono comprese anche i pazienti di Bergamo trasferiti da Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione e i dati della Protezione Civile Nazionale.